Saif al-Islam, secondo genito di Muammar Gheddafi, è stato condannato alla pena di morte per crimini di guerra commessi durante la rivoluzione del 2011. Insieme a lui sono state condannate a morte per lo stesso reato altre otto persone, tra cui l'ex primo ministro Mahmoud al-Baghdadi e l'ex capo della sicurezza libica, Abdullah al-Senussi. Saif al-Islam non era presente in tribunale essendo detenuto nella prigione di Zintan, zona controllata da un gruppo ribelle che rifiuta di rilasciarlo. 43 anni, Saif è stato a lungo considerato il naturale successore del padre durante il suo regime. Dopo la morte di Gheddafi è diventato uno dei punti di riferimento della resistenza al Consiglio Nazionale di Transizione libico. In un'intervista a Euronews del marzo 2011, Saif al-Islam affermò che il regime di Gheddafi aveva finanziato la campagna elettorale del presidente francese Nicolas Sarkozy.